Milito Sindaco di Sansevero, in questi giorni ci sono state un po' di marette con la stampa. Che cosa è successo? Qualcuno di solito si lamenta di non poter esprimere la propria opinione, però in questo caso sembrerebbe che qualcuno abbia impedito qualche collega di fare delle riprese televisive, di svolgere il proprio lavoro. Io personalmente credo che nel 2015 non si possa e non si debba porre alcuna questione o dibattito intorno al diritto degli operatori e dell'informazione di portare a conoscenza dei cittadini le questioni amministrative che riguardano le proprie comunità, siano cittadine, provinciali o anche regionali. Quindi per quello che mi riguarda credo che il diritto all'informazione vada salvaguardato e garantito senza alcun lacciolo. Il problema è di natura tecnica, nel senso che c'è un refuso, un regolamento che non ha approvato questa amministrazione, ma un regolamento del Consiglio Comunale che rinviene dalle consigliature precedenti, in cui per una questione di organizzazione dell'aula e di attribuzione dei posti si era previsto che le truppe, l'equipe giornalistiche, nel momento in cui intendessero seguire i lavori del Consiglio e fare delle riprese televisive, comunicassero alla Presidenza del Consiglio Comunale la loro presenza, proprio per garantire alla Segreteria del Consiglio Comunale di poter predisporre in maniera adeguata la postazione dei giornalisti, atteso che l'aula consigliare di San Severo, che voi certamente conoscete, non è grandissima e quindi ci sono posti non per tutti. Quindi rispondeva a quella disposizione regolamentare unicamente ad una necessità organizzativa, e quindi di predisposizione attraverso degli accrediti e una semplice comunicazione, proprio perché non è autorizzazione. Noi non siamo facultati ad autorizzare alcuno a fare il suo lavoro e né vorremmo farlo. È un diritto acquisito, consacrato, oramai nel 2015, su cui non si può discutere e non vogliamo discutere. Io ho preso impegni, mi sono scusato per il disguido che è avvenuto nelle ultime sedute del Consiglio Comunale. L'amministrazione comunale di San Severo non ha nessun interesse né alcuna intenzione a tenere celati i lavori del Consiglio Comunale, atteso che noi siamo ripresi in streaming e quindi i cittadini collegandosi al nostro sito istituzionale possono, stando liberamente e comodamente seduti a casa, seguire i nostri lavori di aula. Quindi non ha senso impedire le riprese, mi sembra una contraddizione. L'impegno che ho assunto è a eliminare questa disposizione regolamentare e quindi senza alcuna comunicazione preventiva e senza alcuna forma di accredito ogni giornalista, ma ritengo anche ogni cittadino, può transitare nell'aula consigliare e riprendere i lavori della seduta del Consiglio Comunale. Certo, questo potrà nel seguito portare a qualche inconveniente di natura organizzativa, nel senso che un giornalista potrebbe non avere una propria postazione per prendere appunti o per poter svolgere al meglio il proprio lavoro. Tuttavia, oggi l'aula consigliare è questa, questi sono i mezzi di cui disponiamo e quindi tutti insieme dobbiamo porre rimedio a questa situazione. Credo che da questo punto di vista l'impegno che assumo come sindaco di Sansevero è a espuggere presto, il più presto possibile, quella disposizione regolamentare che, voglio dire, quando fu pensata non era stata concepita per porre un'argine al diritto di informazione, ma unicamente rispondere a dei criteri di migliore e più funzionale organizzazione proprio del lavoro degli stessi giornalisti. Quindi, sindaco, lei si impegna, come ha fatto il Presidente del Consiglio Comunale di Lucera, a rivedere anche a Lucera, si è creato questo problema, anche se poi in realtà a Lucera non c'è mai stato un vero e proprio impedimento a nessuno. C'è uno scritto, un articolo di una ipotetica legge, tra virgolette, che è il regolamento che praticamente, diciamo, tra virgolette, prevedeva... Comunicazione, non un'autorizzazione. Quindi, sia Sansevero che Lucera, a più breve si preoccuperanno a risolvere il problema. Assolutamente sì. È l'impegno che intendo assumere di togliere questo obbligo di comunicazione, non di autorizzazione, che credo che non abbia più ragione d'essere, possa essere foriere soltanto di equivoci, tra noi, la stampa e la cittadinanza, e dar luogo a pensieri nascosti che non devono esserci, proprio perché noi abbiamo tutto l'interesse e tutta l'intenzione a rendere palese e manifesta la nostra azione amministrativa. Non abbiamo nulla da nascondere ed è giusto che i cittadini possano, secondo dopo secondo, controllare l'attività che poniamo in essere.